ed eccoci qua cari amici appassionati di auto vintage niente siamo qua barber day ci ha dato grandi emozioni e adesso vi faccio vedere una splendida fiat 1100 eccola qua spettacolare abbiamo detto di che anno è non lo sai qua ci dicono 68 ma non è sicuro comunque ragazzi guardate qua fiat 1100 facciamo onore al titolare di questa fiat 1100 e niente adesso apriamo tutto apriamo tutto e orate qua cari amici facciamo onore alla fiat 1100 e gli appassionati quelli vecchi e fiat ma quel vecchio marvi la vista qua bella esposta vicino al muro di roccia ha detto vecchio marvi adesso adesso abbiamo porto facciamo una cosa ben fatto anche perché una 1100 un po particolare per cui merita e ragazzi guardate qua eccolo qua ci vuoi aprimi te la porta dai eccolo qua dai che così diventi ecco bravissimo guardate qua fiat 1100 tutto originale ragazzi spettacolo guardate qua per gli amanti qua delle fiat 1100 guardate qua c'è su addirittura c'è il telo non so se era del tempo era del tempo dici era del tempo e niente ragazzi eccola qua fiat 1100 spettacolo spettacolo eh guardate qua adesso apriamo tutto bagagliaio tutto vai 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 di bagagliaio eccolo qua ragazzi un po così eh come vedete il vecchio marvi qua siamo sul lago lago di caldonazzo e niente qua il vecchio marvi è qua che sta facendo la diretta qua questa bellissima fiat 1100 e facciamo onore appunto al proprietario guardate qua spettacolo eh fiat 1100 insomma ci sarebbe anche il modello giusto da dire ma adesso non me lo ricordo qua chi guida questa 1100 non lo sa e niente insomma comunque è una 1100 spettacolo eh eccezionale vai tranquillo chiudi qua il bagagliaio eh e niente insomma guardate qua guardate qua che chiusura addirittura i carabinieri hanno suonato il vecchio marvi che intralzava il traffico il baule me lo apri il cofano andiamo qua sul cofano eccolo qua insomma qua una 1100 così insomma meritava qua per gli appassionati qua di vecchie fiat la mettiamo guardate qua insomma direi un motore quasi nuovo di fabbrica tutto originale qua e niente insomma ascolta mi dai un accensione sentiamo dai così orologio dici come orologio svizzero ragazzi ecco preciso preciso eh ragazzi queste sono le auto eh no l'elettronica guarda trovandola senti perfetta si vede che è collaudato eh bene spettacolo ragazzi guardate qua eh fiat 1100 qua il barber day eh vecchio marvi qua mentre gli altri ci sono diretti a mangiare il vecchio marvi non conosce tregua non conosce pausa va avanti guarda qua paolo che che bel record che ti ho fatto ti faccio i complimenti paolo perché anche quest'anno hai portato al barber day macchine davvero eccezionali eh ragazzi insomma con questo vi saluto insomma io ve l'ho fatta vedere un po' un po' tutta qua eh eccezionale eh spettacolo eccola qua ragazzi bellissima grazie amico ci vuoi spegni eccola qua ragazzi fiat 1100 qua dal lago di caldonassa o barber day 2018 vai tranquillo spegni guardate qua ringraziamo qua il bravissimo amico che ci ha aperto tutto barber day è questo un saluto a tutti gli appassionati di vecchie fiat ciao a tutti viva il barber day viva qua il lago di caldonassa eccetera eccetera spettacolo ciao a tutti